Per me è un'inspiration che si trova in un'altra vita, ma se sei bene oplettato, è tutto tutto. Il dettaglio che mi ha colpito maggiormente era il design della griglia frontale dell'auto, perché aveva questo intrigo di linee. Quando questo slogan mi ha fatto, mi ha fatto un'ottima presentazione della scuola di 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 scuola. Grazie per la visione! Grazie per la visione!